buon pomeriggio vi avevo promesso si vabbè so che questo video lo guardano in quattro spero che almeno si facciano realizzate una recensione onesta giusta di welcome to racon city e parlerò anche di qualche altro film così da schivare e da vedere quindi cercherò di essere abbastanza idiota come come si confà a queste cose allora io sto ancora cercando dei capi che cacchio di film hanno visto l'aslo e verai spazio games ma quando sentite dal cinema cosa ci avevate non le mortadelle negli occhi ora non dico che faccia schifo a livello dei film con gli occhi dei film con gli uovo vicini non capisco ancora adesso quelli che dicono e ma il primo non era male porca miseria una troiata allucinante ma questo qui siamo appena appena è appena appena meglio non del primo film della joves che ho detto fra tutta la fila è l'unico che diciamo così fa schifo ma qualcosa di decente c'è poi è un precipizio con il finale che è imbarazzante ma questo è poco meglio del capitolo finale partiamo da una cosa a parte sminchiare la storia dei personaggi non si capisce perché e qui torna un discorso è vero che quando si passa da un media a un altro media bisogna cambiare le cose adattarle aggiustarle costruirle meglio ma ci sarà un motivo per cui fino adesso l'unico film decente non capolavoro ma decente basato sul videogioco e silent hill il primo il secondo è un fan bo è un fan movie ed è due partiti e due balle che non finiscono più ma il primo sì partendo da un presupposto la storia di silent hill è dieci volte più profonda a essere buoni e facciamo anche venti volte più profonda di quella di resident evil che è basica mentre di là si va a prendere twin peaks come base di lì si vanno a prendere gli horror movie degli anni settanta i b movie tutto quanto comprese la struttura dei personaggi ma porca miseria qui mischiano due giro giochi resident evil 1 e resident evil 2 che da soli già basterebbero fare una storia sminchiano a cavolo i personaggi ad a wong che quella che soccora wesker ma perché cazzo cioè è una spia lasciamo perdere leon kennedy che per cosa dire sta a metà tra il figo la gente super figo e il collezionista dei due di picche cronico perché tutta la saga più che due di picche non piglia a partire e lui comunque fissato da da wong lo fa diventare un minchione gil valentine si va bene cazzuta ma è caucasica no gli devono anche cambiare gli etni perché non si sa mai con il politica li corrent e la fanno diventare natrucida manca solo che si mette a ruttare mentre spara che ci sta ci starebbe tutto sminchiano chris e clare manco stavano la sacità nel duolo è lei che lo va a cercare quindi non abita questa città tirano fuori alcuni dei personaggi inutili perché nel presenti nell'uno nel due perché gli avevano tolti subito di mezzo è perché sennò diventava un casino allora nell'uno nel videogioco uno sia nella versione originale che nel remake che abbiamo abbiamo albert wesker per cattivone diciamola così chris redfield gil valentine brad vickers e rebecca chambers sono cinque si cerca di compattare visto che già devi costruirli a stereotipo non mettiamole troppi nel calderone nel due già aumentano perché abbiamo claire redfield leon kennedy il commissario irons tutta la famiglia birkin quindi papà papà vabbè papà il mostrone vabbè mamma e figlioletta e ada wong ok gioco anche più lungo più longevo se tu me li prendi me li metti tutti insieme e per giunta risusciti alcuni che erano stati pettinati già nell'uno perché di fatto erano vabbè inutili nella storia sembra solo a far vedere ha visto quello che gli è successo e che cazzo non hai un film di sei ore hai un film di due ore in cui devi far capire a tutti chi sono sti personaggi non è che tutti sanno tutto della saga se poi alcuni me li sminchi ma in realtà il film è una collezione in interrotta di fanservice hai visto guarda lì il liquor sul soffitto come nel 2 e immagino i giocatori le pippone che si fanno per ste cose ribadisco un film non è un videogioco quello che puoi fare in un videogioco non puoi fare in un film ed è un discorso che vale anche per i libri un libro non è un film quello che puoi fare in un libro non lo puoi fare in un film perché peter gerson ha tolto la signora nella l'intera parte di tom bombadil perché sarebbe venuta una schifezza piuttosto di fare una schifezza ma tolgo c'ha una sua logica perché i media sono diversi ma se tu fai una collezione infinita di fanservice una trama che poi letteralmente finale tronco come pochi con un sotto finale che non si capisce che senso ha edawon che aiuta wesker quando nella serie edawon arriva anche a lavorare per wesker in realtà fa il doppio gioco triplo leon che tu fai il 44esimo millesimo doppio gioco non lo so cioè è una affidabile come renzi perché devi sminchiare tutto hai la villa spensa e ambientalo lì vuoi ambientarlo nel commissariato ambientalo nel commissariato non hai il tempo di gestire bene tutto e illustrare tutto viene una schifezza così e questo è un film è un film che sostanzialmente è un gigantesco fanservice per chi pipponi ragazzi quando io poi sento da qualcuno è meglio quando giocato il primo residentivo ai tempi quello per più è vero spaventatissimo porca miseria veramente ma io con tutto ma silent hill mi ha inquietato mi inquieta ancora adesso i primi quattro gli altri è meglio stenderci su un velo pietoso e soprattutto il primo e il secondo diciamola residentivo una volta riconosci la posizione di jumpscare dove cacchio ti puoi spaventare se sai che in quel momento uscirà quella cosa eto il jumpscare funziona solo una volta che uno sa che c'è una volta che sai che è lì non fa più effetto detto questo è un fan è un fan movie fatto apposta per accontentare chi non arriva a superare lo scalino dell'incongruenza della trama cioè ah che bello hanno fatto le cose come ci sono nel videogioco ma se nel videogioco avevano un senso nel film no nel film passano per minchiate ci sarà un motivo per cui anche se ne blatterano non si stanno nessuno si azzarda a toccare metal gear provate a fare un film su metal gear solo per spiegare il rapporto tra big boss solid snake liquid snake solid snake il progetto infanterie ecco lì partono tre ore di film non è fruibile è già un film il gioco che si estende su tra l'altro su molti giochi in un film viene una puttanata quindi no non ve lo consiglio non ve lo consiglio se avete amato la serie godetevi la serie videoludica che vale cento volte questa boiata fatta per i bimbi minchia nutellosi e quando uno mi dice è ma un bimovicon stile 40 milioni o 35 ma cambia relativamente poco per un bimovicon stile no qui lo stile è accontentare il bambino accontentare il fanboy quello che non va oltre la gioia di vedere in un film quello che lui ha visto nel videogioco guardate non nel videogioco adesso passiamo alcuni film che io vi consiglio di evitare come la peste e alcuni film che invece vi consiglio di guardare partiamo da quello diciamo più pregnante nixon gli inganni del potere gli inganni del potere fatalmente schifo che a volte mi confondo con il titolo ragazzi io capisco che oliver stone dai tempi di jfk in cui porta avanti la sua teoria c'è la morte con nixon però qui si vedono tutti i limiti della persona guardate che sono limiti che si vedono anche in film che non sono estremamente politiche come any given sunday ogni maledetta domenica in cui praticamente dice a deniro di fare di stare i nove retti una scena sì una no jerry fox che non si capisce diventa da un coglione a un saggio in pochi secoli ci sono diversi eroi però diciamo la costruzione generale te lo fa apprezzare qui no qui c'è un anthony hawkins che è imbarazzante allora stone infila tutti i tic e tutti i difetti possibili che aveva nixon compreso la tendenza diciamo così ad avere una sudorazione abbondante a incartarsi nelle parole ma non era neanche così se qualcuno voglia vada a guardarsi non il film frost verso snickshaw che comunque vale cento volte questo vada a recuperare le interviste famosi famosi le famose interviste fatte da rosco le originali non è non si troverà di fronte una persona che si incartava nelle parole qui c'è tutto l'odio che stona verso nixon tutto c'è la beatificazione dei kennedy che erano tutto come famiglia tutto fuorché dei beati l'insinuazione sistematica di complotti qui complotti la che manca un terrapiattista rettiliano fuso insieme e tira fuori così tanti hopkins che recita troppo spesso sopra le righe facendo diventare nixon una macchietta in troppe cose e di fatto un sorvolare su determinati aspetti che secondo lui kennedy erano dei santi veniva giù dal cielo fa niente se si scambiavano le amanti quindi tradivano le mogli considerandole più o meno come dei soprammobili che avevano rapporti con gente con cui uno non dovrebbe avere rapporti considerato che si è presidente degli stati uniti che il padre fu uno dei deficienti della conferenza di monaco che erano anticomunisti viscerali ma è tutto il film che è così anche la figura di algar uber che viene fatta fare da boboskins che è un bravissimo attore però anche qua diventa macchiettistico c'è la scena col cameriere imbarazzante veramente quando vi rompono le balle parlando di politica le corrette eccetera in quella scena lì che è volgarissima perché mette in luce le tendenze di uber verso una determinata cosa facendolo diventare qualcosa di laido e schifoso ecco quella secondo me è molto negativa però di quella non parlano perché sfiguriamo se qualcuno diceva di baston guarda che il fatto va bene uber era un uomo sessuale omofobo che era un top della contraddizione ma l'hai fatto diventare una macchietta da film da film comico italiano degli anni settanta c'è un laido e basta non era così era un uomo di potere che sapeva come gestire il potere quindi questo ragazzi se volete guardare guardatelo io non vi dico di non guardare perché l'ho guardato più di una volta come di dire una cosa simile però sappiate che veramente volgare veramente volgare e veramente mistificatorio ed è sostanzialmente un sostegno alla santificazione dei kennedy che tutto fuori che che tutto erano fuori che dei santi poi passiamo a due fintrucidi allora uno è meglio dell'altro ci vuole poco parliamo di quello migliore men il primo squadro con jason statam e il film è palesemente finanziato dalla cina non fosse altro che l'attrice protagonista femminile cinese ci sono il padre del cinese il tizio che steppi viene stempiato per primo anche se l'attore giapponese e cinese la la sigla finale cantata è una canzone cinese che ragazzi mi ascoltà la mia del gutalax che tutto il film è una grandissima che ma ma ragazzi ma un everest di letame costata anche a una sola espressione ma si lo dicevano anche di eastwood ma siamo di fronte all'abisso che non è letteralmente non è capace di simulare un'emozione ma neanche a sforzo però si gonfia sempre che l'unica volta che l'ho visto fare una parte l'ho visto in due film il primo è in collaterale di michael man semplicemente perché appare un secondo dalla valigia a ton come si va via e secondo nei mercenari in cui sostanzialmente però tutto è over acting tutti sono truzzi sono tutti esagerati gonfi tutto quanto quindi chi se ne frega se uno prende sul serio la trilogia dei mercenari ha qualche problemino dicevo qui siamo al minimi termini della recitazione cioè questi è un megalodonte tipico animale riconosciuto tipico della tutti lo riconoscono se è un mitiologo va bene a parte che questo di questo megalodonte viveva una sorta di sacca non si capisce bene come funziona sta sacca di pressione ok ma una volta che esci dalla sacca cioè no perché a 12 mila metri di profondità ce n'è un pochettino di pressione eh ma lì non esce sono due addirittura che devi stempiare sto pesce cioè ma chiamate la marina due sistalion armati con gli asrock e le gauda 30 mm te lo fanno diventare tonno no deve diventare una cosa epocale cioè come se fosse un bersaglio difficile da vedere eh poi ovviamente figuriamoci se non ci mettono di mezzo la bambina è un film finanzi è palese che una cinesata ma nel senso che anzi io i film dimostri cinesi li ho visti c'è proprio un canale su youtube che fa vedere i loro film ragazzi sono imbarazzanti per la quantità di minchiate che dicono me è sinceramente la cosa più comica è sentire questa gente che parla di ambiente bisogna difendere l'ambiente e che cavolo avete le centrali carbone anche nel cesso e parlate di ambiente cioè scusatemi è ma un film capisco la retorica e voler sembrare quello che non siete ma datemi anche una regolata però c'è un film peggiore di questo rampage o rampage con Dwayne Rock Dwayne Johnson The Rock che secondo me è la sua bravura come attore è immersamente proporzionale a quello che gli danno come stipendio non dico che è peggio di statan perché lì siamo a livello quasi pavimento è un filino meglio peggio di statan poi si va negli abissi c'è sì galberdire no però porca miseria allora di là gli effetti speciali facevano ridere i polli qui siamo a livello non so l'effettista è quello che ha fatto che ha curato gli effetti speciali di chicken park quello con calà porca miseria il gorilla albino imbarazzante a parte l'idea molto idiota dell'insegnare gestaci ai gorilla perché fa ridere e che bello fa il dito medio un po' come gli stronzi che insegnavano alla scimmia a bere e fumare perché facevano spettacolo così non era una roba naturale ma tu gli ecco la cga è imbarazzante veramente fa schifo ma ma schifo schifo la recitazione fa ancora più schifo la trama è inconsistente anche questo è un derivativo da un videogioco che era già abbastanza vabbè è il classico videogioco cacciarone non ci puoi cavare un film ce l'ha incavato e chi ci metti ci metti il gonfio quindi veroc porca miseria ragazzi se vi dico che meg è meglio e meg è una colata di guano per concimere i campi immaginatevi che roba può essere questa ma poi annoia ragazzi va bene fai un film cacciarone ma ti annoi cioè per dire boiate come la vantula con gutenberg che sono film ignobili ma veramente schifo però ti fai delle risate dall'inizio alla fine perché sono talmente fuori di melone buttati via con tutto fuori scala e tutto quanto che sono film comici qua ti annoi ma quanto cazzo mi frega me dello scimione del lupo del ratto e di questi che stanno nello spazio e di questi ricconi qua stereotipati e ma du coioni e infine due film assolutamente consigliati invece il primo quello più recente dei due anche se non è l'ultimo fatto da questo grande sì lo so a ognuno tendo a perdonare le quasi tutte vabbè diciamo certe vaccate che si vendono inganni vabbè però è anche lì non era un fin serio non si prendeva sul serio neanche lui le mule il corriere un istituto straordinario ormai è un uomo che andate a vedere anche crime e cioè il consiglio ma le mule dovreste vedere prima ormai istud recita per sottrazione non so non riesco a trovare un'altra definizione non so se c'è una definizione è intimista nella recitazione cioè la storia che tra l'altro è tratta di una storia vera effettivamente un anziano diventò corriere per i cartelli e poi finì a capio vabbè c'è un istituto straordinario cioè vabbè lui porta avanti questo discorso l'ha portato avanti anche ancora in gioco dell'importanza della costruzione degli affetti cioè delle cose che hanno veramente un valore noto che più invecchia più su questo punto tende a picchiare cioè a volte la corsa a cose effimere ci fa perdere le cose importanti tipo la famiglia e gli affetti cosa che anche in questo film cioè la sua redenzione è appunto ritrovare all'interno della famiglia rischiare addirittura quello che rischierà per stare vicino all'ex moglie che sta passando dall'altra parte ma è anche un uomo spontaneo che davanti alla coppia diversamente colorata li chiama con la hand word e ride nel farlo cioè un uomo senza quei freni imbitori ipocriti codardi che di fatto sono i politicali core che non ha mai combattuto in nessun modo la parola con la R ma semplicemente la nasconde sotto il tappeto è un film godibilissimo rimane con toni di commedia anche se si inseriscono toni drammatici bravissimo Andy Garcia bravo comunque il cast di contorno dei dei cartelli con alcune caratteristiche si vedono spesso sempre in quei ruoli cioè guardatelo non vi annoia un minuto Istud vi fa anche ridere è solo da vedere Istud che fa il fioraio cura i fiori cioè snaturando completamente l'idea del duro e tutto quanto è molto poetico è una storia semplice ma recitata bene che va giù letteralmente in modo facile ma a differenza di storie che sembrano facili e quindi vanno e non lascia nulla questa vi lascia qualcosa vi lascia l'idea che le cose importanti spesso sono quelle che noi trascuriamo e ce ne accorgiamo solo quando sono andate via e ultimo anche perché il 22 minuti vi è già scassato le balle la talpa con Gary Oldman Colin Firth Benedict Cumberbatch grandissimo film di spionaggio se cercate un film d'azione schivatelo qui l'azione manco c'è però c'è una tensione narrativa grazie agli attori a tutti che è lodevole alla ricerca di questa c'è anche scusate mi sono dimenticato c'è anche Earth una delle sue ultime parti bellissimo film qui non posso tanto descrivere perché purtroppo se vi dico qualcosa mi smonto la trama la suspense perché non troverete un riferimento per far capire chi è la talpa se non alla fine anche se qualche sospetto c'è e nel finale finale in cui guardate bene cosa fa Oldman capite anche determinati meccanismi e comportamento di quello che è la talpa che poi provocherà conseguenze tragiche per lui soprattutto e qui devo un attimo guardatelo ne vale veramente la pena non vi annoierà un minuto anche se ve l'ho detto l'azione non esiste sostanzialmente ma la tensione sottile la curiosità di capire chi è chi non è ragazzi è alto cinema e per chiudere mi sembra che ve l'ho già raccomandato in un altro in un altro video ma se avete ancora l'occasione non l'avete ancora visto andatevi a recuperare Remember con Marty Landau Jung and Pork Now e Christopher Plum ragazzi io su quel film che ha un giallo ma non ne sono un giallo io posso solo dirvi che quel film lì vale la pena di guardarlo minuto per minuto il finale hanno ragione H Cochiano ma la storia che porta dentro niente da fare niente da dire è una meraviglia chiudo ho scassato le balle per 25 minuti allora anche qua fatemi sapere se salta fuori ancora qualche saltano fuori le ricariche e noi ci sentiamo domani ciao a tutti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti